In una delle zone più esclusive della città, all'interno di una villa che si ergeva imponente e maestosa, vivevano Marco e Laura. La loro dimora era circondata da giardini lussereggenti, con una vista che spiazzava e che tendeva verso l'orizzonte, dove la città si stendeva sotto di loro come un tappeto illuminato dalle stelle. Marco era un uomo d'affari di successo, il cui nome era sinonimo di innovazione e progresso nel mondo tecnologico. La sua azienda aveva rivoluzionato il modo in cui le persone interagivano con la tecnologia, rendendolo uno degli imprenditori più rispettati e ammirati. Laura al suo fianco era l'emblema della grazia e della bellezza, conosciuta per il suo impegno in numerose cause benefiche, era ammirata tanto per il suo aspetto quanto per la sua dedizione a migliorare il mondo intorno a sé. Tuttavia, dietro il sorriso calmo e la compostezza, Laura nascondeva un segreto che solo lei conosceva. La loro vita insieme era un quadro di felicità apparente, con serate trascorse in compagnia dell'elite della città, viaggi esotici e partecipazione ad eventi di gala che facevano la cronaca. Ma nonostante l'abbondanza di gioie materiali, Marco aveva iniziato a percepire un cambiamento in Laura, qualcosa che non riusciva a spiegarsi. Ogni mattina Laura lasciava la villa all'alba, quando il cielo iniziava appena a schiarirsi, dicendo di voler dedicare al suo benessere personale attraverso lo yoga e incontri con le amiche. Marco, pur volendo credere alla sincerità di sua moglie, sentiva crescere dentro di sé un tarlo di dubbio. Perché Laura sentiva il bisogno di allontanarsi così spesso e con tanta regolarità da casa. C'era qualcosa che non diceva. La loro routine mattutina era diventata un rituale di parole non dette. Marco osservava Laura prepararsi per uscire, notando come sembrasse assorbita dai suoi pensieri quasi preoccupata. «Sei sicura di stare bene, Laura?» le chiedeva Marco, cercando di scrutare nei suoi occhi. «Sì, caro, non potrei stare meglio. Queste mattine per me sono rinvigorenti», rispondeva lei con un sorriso, ma i suoi occhi sembravano celare storie non raccontate. Marco tentava di soffocare i suoi dubbi, concentrandosi sul lavoro e sulle sue responsabilità. Tuttavia la curiosità e la preoccupazione per la donna che amava non facevano che crescere. I sospetti di Marco crescevano. Le giornate di Marco erano diventate un turbinio di riunioni, decisioni aziendali e strategie di mercato, ma sotto la superficie del successo professionale covava un'insoddisfazione personale. Nonostante la sua immagine pubblica di imprenditore di ferro, la sua vita privata era attraversata da correnti di dubbi e incertezze. La routine mattutina di Laura, le sue assenze sempre più frequenti e prolungate, avevano acceso in lui un sospetto corrosivo, una fiammella che non riusciva a spegnere. Una mattina, mentre sorseggiava il caffè nella grande cucina illuminata dal sole nascente, Marco osservò Laura prepararsi con la solita fretta. Lei indossava un abbigliamento casual, insolitamente semplice per il loro standard, e sembrava assorta nei suoi pensieri. «Vado, amore», disse lei, avvicinandosi per dargli un bacio veloce. «Ci vediamo stasera, ok?» Marco annui, ma mentre la guardava uscire dalla porta, qualcosa dentro di lui si spezzò. «Devo, devo sapere», si disse. Il dubbio sulla fedeltà di Laura lo tormentava, ma l'idea di spiarla, di infrangere quella fiducia che aveva sempre considerato sacra tra loro lo disgustava. Tuttavia l'incertezza stava erodendo il suo animo, giorno dopo giorno. Nei giorni successivi Marco cercò di distrarsi, immergendosi nel lavoro e nelle sue responsabilità, ma le immagini di Laura che se ne andava ogni mattina, la sua figura che si allontanava per intraprendere chissà quale misteriosa attività, diventavano sempre più ossessionanti. «E se ci fosse un altro?» si chiedeva con il cuore pesante. «E se Laura avesse trovato qualcuno che la comprende meglio, che le dà ciò che io non posso darle?» Le serate insieme erano diventate esercizi di normalità, forzata però. Conversavano dei loro giorni, dei loro progetti, delle novità aziendali di Marco, ma sotto la superficie cortese delle parole un abisso di non detti si allargava tra di loro. Marco osservava Laura, cercando segni, indizi di una verità nascosta, ma lei sembrava sempre la stessa. Affettuosa ma distante, presente ma assente. Una notte dopo un'altra cena trascorsa in un equilibrio precario tra intimità e distanza, Marco prese una decisione. «Domani» si promise. «Domani scoprirò cosa nasconde Laura». La decisione di seguirla era contraria a tutto ciò in cui credeva, ma sentiva di non avere scelta. Il bisogno di conoscere la verità, per quanto dolorosa potesse essere, aveva preso il sopravvento. Il mattino seguente Marco si preparò come per una giornata ordinaria di lavoro. Baciò Laura, le augurò una buona giornata, ma invece di dirigersi verso l'ufficio, si mise al volante della sua auto e iniziò a seguire la moglie, a distanza discreta. Il cuore li batteva forte nel petto, una miscela di paura, eccitazione e un senso di tradimento che li annebbiava la mente. Laura non sembrava sospettare nulla. Procedendo con la sua solita determinazione verso una destinazione sconosciuta a Marco. Mentre seguiva la sua auto attraverso i quartieri della città, Marco sentiva crescere dentro di sé un'ansia opprimente. Cosa troverò? Si domandava. E se tutto ciò in cui credevo fosse falso, sbagliato? E se la donna che amo non è quella che credevo? Se lei fosse una bugia? Quella mattina la città sembrava avvolta in una nebbia sottile, che attenuava i suoni e rendeva i contorni del mondo sfumati e incerti. Marco guidava con cautela, mantenendo una distanza discreta dall'auto di Laura. Ogni svolta che lei prendeva lo portava più lontano dai quartieri familiari, dai viali alberati e dalle case signorili, verso una parte della città che raramente aveva motivo di visitare. I bassi fondi si presentarono a Marco come un altro mondo, un luogo dove il lusso e la comodità della sua vita quotidiana sembravano concetti alieni. Edifici faticenti, strade dissestate e volti segnati dalla fatica e dalla disperazione lo circondavano, un netto contrasto con l'esistenza che conosceva. Eppure Laura proseguiva senza esitazione, come se quel mondo le fosse familiare, quasi accogliente. Marco parcheggiò l'auto in una strada laterale, continuando a seguire Laura a piedi. La vide avvicinarsi così a un gruppo di persone ammassate intorno a un fuoco di fortuna. I loro volti illuminati dalla fiamma tremolante si vedevano chiaramente. Volti tristi, volti consumati. Dopodiché con sorpresa vide Laura estrarre dall'auto del cibo, delle coperte e altri beni di prima necessità, distribuendoli con gesti gentili e parole di conforto. Sorrideva e sembrava a suo agio tra quelle persone. Le parole di Laura erano dolci, sincere. Le sentiva. Il suo sorriso, diretto a quelle persone dimenticate dal mondo, era pieno di calore. Marco la osservava, nascosto dietro all'angolo di un edificio, con un cappuccio in testa. E sentiva il suo cuore colmo di un'emozione complessa. Una mescolanza di sollievo, ammirazione e una punta di vergogna. Laura non nascondeva un amante, ma un atto di generosità così puro e disinteressato che lo lasciava senza parole. Si chiedeva, perché sta aiutando quei senza tetto? Dopo aver esaurito le scorte, Laura si soffermò a parlare con alcuni dei senza tetto, ascoltando le loro storie con un'attenzione che parlava di una profonda empatia. Marco, osservando quelle interazioni, si rese conto di quanto poco conoscesse del mondo di Laura, di quelle profondità della sua anima che lei aveva scelto di non condividere con lui. Quando Laura se ne andò, Marco rimase ancora per un momento, riflettendo su ciò che aveva visto. Poi, con passo pesante, tornò alla sua auto e guidò verso casa. Con la mente il tumulto, doveva affrontare Laura. Ma ora il confronto non era più mosso da sospetti di infedeltà, bensì dal bisogno di comprendere, di conoscere la verità su sua moglie e su se stesso. Quella sera, quando Laura rientrò, trovo Marco ad attenderla nel salotto. L'espressione seria, ma con gli occhi pieni di domande, si vedeva nel suo volto. Laura lo guardò, percependo subito che qualcosa era cambiato. Marco, cos'è successo? Chiese, posando la borsa e avvicinandosi a lui con cautela. Ti ho seguita oggi, iniziò Marco con la voce tremante. Ho visto ciò che fai, ho visto come aiuti quelle persone nei bassi fondi. Laura rimase in silenzio per un momento, poi sospirò, come se un peso le fosse stato tolto dalle spalle. Non volevo che lo scoprissi in questo modo, disse. Avevo paura, paura che pensassi meno di me, conoscendo il mio passato, parlami del tuo passato allora, Laura. Parlami di te, chiese Marco, invitandola a sedersi accanto a lui. E così Laura iniziò a raccontare. Parlò della sua vita prima di incontrare Marco, di come era cresciuta nei bassi fondi, lottando ogni giorno per sopravvivere. Raccontò delle scelte difficili che aveva dovuto fare, delle brutte cose che era stata costretta a fare per andare avanti. Parlò del suo desiderio di aiutare chi, come lei un tempo, si trovava intrappolato in quella realtà di disperazione. Marco ascoltava in silenzio, ogni tanto annuendo e stringendole la mano, mostrando il suo sostegno. Quando Laura ebbe finito era come se un nuovo legame si fosse formato tra loro, più profondo e vero di qualsiasi cosa avessero condiviso prima. Perché non me l'hai detto prima? chiese Marco. Avevo paura, ammise Laura. Paura che il mondo in cui vivi e il tuo status potessero rendere impossibile accettare questa parte di me. Ma guardati, Marco, sei ricco, sei potente. Cosa avresti fatto sapendo di tua moglie che aiuta delle persone dei bassi fondi? Cosa avresti fatto sapendo che tua moglie viene da lì? Marco la guardò vedendo non solo la donna che amava, ma anche un essere umano incredibilmente forte e generoso. Laura, sai cosa avrei fatto? Ti avrei amato come sempre. Anzi, ti amo come sempre. Il mio amore per te non è definito dal tuo passato, ma da chi sei ora e dalla straordinaria persona che sei diventata. Voglio aiutarti, voglio essere parte di questo tuo mondo. Fortunatamente quindi alla fine scelsero l'unione, decidendo insieme di affrontare le sfide del mondo, non più come individui separati, ma come una coppia unita da un profondo legame di amore e comprensione reciproca. Nei giorni successivi Marco e Laura lavorarono fianco a fianco per trasformare la loro nuova comprensione in azione. Marco, ispirato dall'impegno e dalla passione di Laura, iniziò a vedere oltre i confini della sua azienda e del suo successo personale. Penso che dovremmo fare di più, Laura, disse Marco una sera mentre sedevano nel loro giardino osservando il tramonto. Non solo distribuire cibo e beni, ma creare un luogo dove le persone possano trovare rifugio. Sostegno è una seconda possibilità. Laura lo guardò con gli occhi brillanti di emozione. Hai ragione, Marco, sognavo qualcosa del genere, ma non avrei mai pensato fosse possibile. Con le risorse e i contatti che abbiamo, possiamo fare la differenza. Costruiamolo, costruiamo un centro di aiuto nei bassi fondi, un luogo dove chi è meno fortunato può ricevere formazione, supporto legale, medico e psicologico. Laura fu sopraffatta dall'entusiasmo. Sarebbe meraviglioso, no? Aiutare le persone a costruire una nuova vita. Marco, questo potrebbe cambiare tutto per loro. E così, nei mesi successivi, la visione di Marco e Laura prese forma. Trovarono un edificio adatto nei bassi fondi, lo ristrutturarono e lo trasformarono nel centro di Speranza Laura, un rifugio per chi aveva bisogno di aiuto per ripartire. Così, questo centro, il centro di Speranza Laura, divenne un farro di luce nei bassi fondi, un simbolo di ciò che può essere ottenuto quando l'amore, la comprensione e l'impegno si uniscono per fare la differenza. Marco e Laura, attraverso il loro viaggio di scoperta reciproca e di azione condivisa, avevano trovato un nuovo scopo, rafforzando il loro legame in modi che non avrebbero mai immaginato.